Benvenuti a Italia Gossip Express, la comunità di Caldarola è in lutto a causa della triste perdita del famoso imprenditore di 38 anni, padre di due bambini. Benvenuti su Febbre da Gossip. Prima di conoscere tutti i dettagli di questa tragedia, ti ricordiamo di premere il pulsante Iscriviti e di esprimere il tuo supporto con un Mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di alta qualità. Ti ringraziamo sinceramente per il tuo sostegno. Mercoledì sera, intorno alle 21.30, ha avuto luogo improvvisamente il decesso a casa sua insieme alla famiglia, a causa di un malore fatale nonostante l'intervento tempestivo degli operatori del 118. Purtroppo, non è stato possibile salvarlo. Lorenzo Lambertucci, amministratore della rinomata azienda informatica Sistema Tre Minuti, amava la vita e le attività all'aperto. Co-fondatore della pagina Facebook di successo, lo sguardo nascosto dei Sibillini faceva parte di diverse organizzazioni legate alla fotografia, all'escursionismo e al ciclismo. Recentemente tornato da un viaggio in Alaska, Lambertucci era attivamente coinvolto in varie iniziative locali, tra cui il supporto alla dirigenza del Caldarola Calcio. La sua passione per il calcio era evidente, avendo giocato in diverse squadre del territorio in passato. La camera ardente di Lambertucci ha visto la partecipazione di numerose persone fino alle 16 di ieri, presso la casa funeraria Rossetti di Tolentino. La comunità si è riunita attorno alla moglie Silvia, ai due figli e ai genitori, lasciando un vuoto profondo nella provincia. Ti invitiamo a lasciare un messaggio di condoglianze per la famiglia e ad iscriverti al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con nuovi contenuti.